La primavera riapre il cantiere di via Scalabrini. Sono ripartiti questa mattina i lavori di sistemazione di una delle vie d'accesso al centro cittadino, rimasti fermi per un paio di mesi a causa delle temperature rigide di questo inverno. Opera i ruspe di nuovo al lavoro, con conseguente modifica della viabilità che costringe chi arriva da nord a deviare per un tratto lungo via Colbacchini. Lo stop ai lavori delle scorse settimane, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Roberto Campagnolo, era stato dettato dalla necessità dello speciale asfalto drenante scelto per i marciapiedi di asciugare a temperatura abbondantemente superiore allo zero per evitare possibili spaccature.